Grande gol, quanto sei contento? Poi andiamo alla partita perché purtroppo è arrivato un K.O. Sono contento perché oggi ho avuto occasione di giocare un pochino di più e alla fine questo che lo alleno in lamento è riuscito. Sto a tirare bene, ho concluso bene e veramente sono contento però sono dispiaciuto perché non abbiamo pareggiato questa partita perché gli ultimi 5-10 minuti loro veramente avevano paura di perdere, di pareggiarla questa partita. Niente, ora dobbiamo continuare, riposare e continuare. Andate a casa più consapevoli, chiedo a te che sei un leader anche caratteriale, uno dei giocatori più esperti. Andate a casa più consapevoli, che siete forti e anche un po' arrabbiati perché sono stati concessi quei tre gol. Vi dà consapevolezza questa partita? Sì, siamo consapevoli che siamo forti perché questo dimostra in classifica, siamo ottavo posto. Anno scorso giocavamo fino alla fine per salvezza, questo anno siamo da parte sinistra. Ottavo abbiamo fatto secondo me un grande campionato fino all'ora. Oggi abbiamo perso contro una grande squadra. Ci può stare però prestazione, penso che è stata. Ora dobbiamo riposare bene dopo 15 giorni, iniziare di nuovo a pedalare forte nell'aumento e continuare questo bellissimo campionato che stiamo facendo.